buongiorno ragazze e ragazzi oggi siamo ritornati qui con un nuovo video questo video si tratta di un video molto bello però prima di che si tratta di questo video vi voglio dire che ci troviamo nella location della pizza challenge perché come sapete noi i video di mangiare li facciamo nella cucina e quindi ragazzi noi ci ritroviamo qui e questa challenge si tratta della della challenge real vs food quindi ragazzi non è che prendiamo uno sacchiotto di gomma e poi prendiamo ok marghe marghe decide di tenere questo piatto o cambiarlo tieni piano piano apriamo vediamo un po piano no mangialo maggio morso gli devi dare no non me lo mangio che schifo questo coso peloso bene mangio oh no quante caravalle mi sono messe in bocca no mamma mia veniva buonissimo mambe mambe giudia tieni il piatto o lo cambi siamo un po che sono ok ragazzi questa volta tocca a me decidere se il teatro lo devo tenere si o no e che faccio lo tengo lo tengo si lo tengo evviva io non è uno io non lo so eh no ti piace te l'ha detto tieni devi mangiare non ci riesco e mangiare bene come 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 buona ok devo vincere un paio ok devo vincere un quarto round così siamo varie e dopo vinco il quinto e ho vinto no no vabbè quanto non ti amo oddio quattro round number four ok number four ora che cazzo gli aggiunti lo tieni me lo tengo ha visto questo lo non ti cura lo davvero pello 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 mangi io ora mi mangia una bellissima gallina vuoi me ne mangio un pezzo questo sono guarita mi ce l'ha venuto all'ospedale posso prendergli un po' e dai si no io ci vedete sono in una posta e dai andami quindi buonissimo ma però a me non è capitato va bene dai ti recupero ti recupero come faccio ne devo fare per forza due quanto? ne devo fare più 5 ok numero 5 lo cambio lo cambio no voglio cambiare ho paura non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente devi aspettare non è bene beh voglio questo uno due tre eeeh coca cola e la coca cola e la coca cola no e dai che schifo che schifo è fruttante coca cola giulia se io ti do un sorso di coca cola tu ti dai una coca cola si ok devo sbagliare non c'è niente non c'è niente buona è molto buona la coca è buonissima ma sei contenta di questa scelta che ho fatto? mi chiamo volevi la coca? anche io volevo la coca fortunata da bene quindi diciamo che visto che noi due volevamo la coca io sto a due e giulia sta a tre yeah si 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 no non so tre io sto a quattro quindi number six giulia lo vuoi cambiare o lo vuoi tenere? no lo so ma tu io voglio la cramela non voglio la sanguola no giulia non vale che tocca e poi cani ma sei scema non più come una santi che puzza muoviti muoviti lo voglio rimanere ok uno due evviva caramella ciambellina buon moza questa cosa schifo devi assaggiarla non è mangiarla qua buona non è pesca evviva allora yeah 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 ok number seven allora fa precipitare oddio ma io che cazzo la cambio o non la cambio la cambio o non la cambio o non la cambio c'è una margherita magari la cambio non la cambio la cambio non la cambio va bene è serio la resto la resto oh la resto la vuole restare l'asciuto capiamo capiamo sei sicura io per me sono sicura va bene io la voglio aprire dai io non mi ho guardato no voglio cambiare no decidi voglio cambiare allora allora quindi uno due tre i soldi vabbè tanto io vado a fare la spesa vado a comprarmi tanti miei panni figli io mi sono usciti i soldi vado a comprare la roba so cinque e tu ecco mi vado a comprarmi le schiaffi tutto quanto cosa cosa mi vado a fare shopping allora senti cera insomma ragazzi ho fatto shopping e ho finito tutti i soldi ok number eight Giulia vuoi cambiare o vuoi tenere voglio cambiare no giulia no si ne hanno visto si non c'è l'hai visto comunque no 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 1 2 3 banana bagnati la banana banana no si si io sono brava e tu sei sfortunata tiè 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 mi sto sto scendendo veramente buona la banana buona la banana buona la banana tiè 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 buona buona ok ok number nine allora voglio cambiare devi pensare scema non è scritto come il mio mi piaceva tagliare non puoi udorare il mio lo voglio oddio lo voglio tenere lo tengo dai lo tengo pronto no io alzo piano uno ho vinto ho vinto si io sono forte io sono forte io sono forte tu sei scarsa tu sei forse io sono forse tu sei scarsa ci odio subito ti odio ti odio ti odio ti odio un povero 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 perché mi è piaciato tu potevi chiederlo ma non te lo voglio chiedere non ti strappa questo basta ho vinto number 10 quindi andiamo decidi Giulia no non vai io non lo puoi toccare 1 2 2 aperte io ho decidi ho perso le fanno 1 guardate 1 2 3 1 2 1 si io sono forte si tu sei persa tu sei persa io sono brava ti 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 poi il le il il ahahah basta che giudino al grigio ahahah 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 ok che scena che brava grazie mi hai fatto un complimento se c'è mettiamo il gelato ahahah ok ragazzi magichine per sempre magichini per sempre col cuore anche questa volta questo video è finito qui spero che siamo riusciti a strapparvi un bel sorriso piccolo sorriso un bel sorriso e se fatecelo capire con un bel pollicione almeno un commento e poi condividetelo con tutti i vostri in tutti i vostri social questo era il video spero che vi sia piaciuto a me è piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram marge giulia kawaii su facebook marge giulia kawaii real e ovviamente su youtube marge giulia kawaii io penso a maturo felice lo stesso no io voglio di agilino no a jagger siete soltanto batter ma do bacca no e magichini e magichini e magichini